la vicenza per la cultura mostra sull'antico egitto in basilica la presentazione di cristian greco sarà al teatro comunale grande attesa vicenza per la prossima mostra che sarà ospitata in basilica palladiana a presentare la cittadinanza l'ambiziosa esposizione i creatori dell'egitto eterno scrivi artigiani operai del servizio del faraone sarà il direttore vicentino del museo egizio cristian greco giovedì 22 dicembre alle ore 18 al teatro comunale di vicenza l'evento che sarà di ingresso gratuito e in programma proprio il giorno di apertura della mostra che sarà visitabile in basilica fino al 7 maggio del 2023 il greco curatore della mostra stessa condurrà in un viaggio attraverso le suggestioni raccontate dalle 180 testimonianze materiali dell'antico egitto 160 delle quali conservate prestate dal prestigioso museo di torino il più antico del mondo dedicato interamente alla cultura egizia la mostra inoltre è arricchita da oggetti provenienti dal museo di louvre di parigi grazie ad un'importante collaborazione col dipartimento di egittologia è un'occasione imperdibile quella che offriamo al pubblico grazie alla disponibilità di cristian greco annuncia l'assessore della cultura simona siotto greco illustrerà il pubblico in particolare nella vita quotidiana dell'antico egitto con un focus particolare su tebelo di analus e deir e medina il villaggio fondato intorno al 1500 a c avanti cristo dove scrivi disegnatori artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni delle vali dei re e delle regine plasmando l'invaginario dell'antica civiltà narza sulle rive del nilo